Dopo l'obbligo dettato dalla riforma Renzi del 2015, in base alla quale le banche popolari hanno dovuto seguire il percorso del passaggio in società per azioni, a cambiare sono stati spesso gli equilibri di questi gruppi, per vocazione da sempre vicini alla popolazione ed altamente identificativi per i propri territori di appartenenza. Sistemi dirottati a fusioni bancarie e acquisizioni, in nome di un'immagine distorta per la quale stabilità dovesse per forza fare rima con grandi gruppi. L'attuale periodo storico sta, contrariamente a quanto largamente caldeggiato, dimostrando che le banche di territorio sono invece l'unico strumento in grado di garantire a piccola e media impresa una concreta possibilità di sviluppo in tempi estremamente travagliati come quelli attuali. Del ruolo di queste, che vengono oggi definite community banks, banche di comunità, e del loro potenziale ruolo nello sviluppo economico della nostra nazione, si parlerà venerdì 2 dicembre in occasione del convegno organizzato da Banca Popolare di Sondrio, in collaborazione con la società di consulenza aziendale Vitale Zane & Co, dal titolo Sviluppo e Sistema Bancario. L'appuntamento è in Sala Fabio Besta, Piazza Garibaldi, a Sondrio, e prevede la presenza di Stefano Zamagni, professore di Economia ed Etica di Impresa all'Università di Bologna, dell'economista Marco Onado, editorialista del Sole 24 Ore, insieme a loro la professoressa Rosa Cocozza dell'Università Federico II di Napoli, il professor Andrea Calamanti e l'analista finanziario Alfonso Scarano. A fare il punto sull'urgenza e sulla necessità delle banche del territorio, una voce dell'imprenditoria valtellinese, Giacomo Pedranzini. Conclusioni di questo, che si prospetta come un importantissimo appuntamento di approfondimento, affidate al direttore generale e CEO della Banca Popolare di Sondrio, Mario Alberto Pedranzini.